Il sindaco di Avellino in conferenza stampa ha annunciato la strategia per costituire un subambito distruttuale che consente al comune di gestire direttamente il servizio raccolta rifiuti. Già Luca Festa fa ciò che gli consente la legge per ottenere un abbattimento dei costi a favore della comunità che potrà inoltre godere di un servizio migliore. Si va verso la nascita di un soggetto pubblico privato, ha chiarito il primo cittadino, che ha anche voluto precisare nulla c'entra la politica. I pensanti mi rendo conto che nella vita ovviamente operano così e quindi di conseguenza pensano che tutto il mondo vada in questa direzione, non è il nostro caso, ma soprattutto si rendono conto che questa scelta farà fare un salto di qualità anche rispetto all'umore nei confronti di questa amministrazione perché quando dici alla gente che governi risparmierai il 15% il prossimo anno e avrai un servizio migliore non potrai che raccogliere la condivisione. È una rivoluzione che abbiamo deciso di effettuare nell'esclusivo interesse della comunità che rappresento e che rappresentiamo, una rivoluzione che consentirà alla gente sin dal prossimo anno di risparmiare il 15% sulla taria ed è un risparmio importante e contestualmente di avere un miglioramento del servizio dei rifiuti, come ho detto in conferenza stampa, una delle cose che maggiormente viene anche un po' contestata all'amministrazione e la mancanza di pulizia. Sin da subito daremo mandato per la redazione del bando di gara, dei patti parasociali, del PEF. Io spero nei prossimi mesi, quindi a breve, di poter pubblicare il bando. Ovviamente prima ci sarà un passaggio in consiglio comunale perché oltre che previsto dal Tuel è opportuno che ci sia il consiglio che condivida anche questo indirizzo e dia poi il via libera ufficiale. Assolutamente nessuna assunzione, anche perché dovendo puntare al risparmio non possiamo aumentare i costi di gestione del nuovo soggetto, così come ovviamente garantiremo tutti i posti occupazionali, agli stessi livelli salariali, agli stessi anche livelli lavorativi. Questo non rappresenterà alcun problema, così come non c'è frammentazione, non c'è la frammentazione del servizio perché Avellino di fatto ha sempre avuto un servizio autonomo, il problema è che l'ha avuto costoso e inefficiente. Andiamo verso la costituzione di un soggetto pubblico privato all'interno del quale il pubblico ovviamente mantiene la maggioranza delle azioni.